Il prossimo 21 ottobre il verbano Cusi Ossola voterà per diventare Lombardo. La data è stata fissata dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Interno Matteo Salvini. Il via libera al referendum era stato dato nemmeno un mese fa dalla Corte di Cassazione che lo aveva dichiarato legittimo. Dopo il distacco da Novara, ora la piccola provincia del nord-est del Piemonte tenta lo sganciamento dall'intera regione. Una consultazione quindi storica, essendo la prima di questo tipo in Italia. Finora infatti le regioni italiane sono rimaste sostanzialmente identiche a quelle nate con la Costituzione della Repubblica del 1948, modificate nel 63 con la creazione del Molise, del Friuli, Venezia e Giulia, ed entrate nel pieno di poteri solo nel 1970 con la prima elezione dei Consigli regionali. Il Piemonte rischia quindi di perdere la sua punta e l'intero Lago Maggiore a beneficio della Lombardia proprio alla vigilia delle regionali del 2019 che eleggeranno il successore di Sergio Chiamparino. All'annuncio festa dei separatisti che già immaginano la vittoria alla consultazione e la successiva ratifica del risultato elettorale del Parlamento italiano, necessario al passaggio definitivo alla nuova regione. Le 5.000 sottoscrizioni che hanno richiesto alla provincia del VCO di staccarsi dal Piemonte erano state raccolte in poco tempo ed ora la speranza dei separatisti è quella di trovare, oltre che una nuova casa, anche l'aspirata autonomia economico-finanziaria che secondo i promotori della consultazione ad oggi non garantirebbe a sufficienza il benessere economico e sociale di quel territorio. Con la fissazione della data del referendum per l'autonomia del verbano Cusi-Ossola può quindi iniziare la campagna elettorale per la prima annessione regionale italiana.